Gospodine Rossi, ci stai da provare a dovolare l'istituto a quello che ti può accadere a oggi? Grazie a tutti. Tantissime occasioni di gol che non sono segnate. Un pizzico di precipitazione, un po' di fretta, mancanza magari di un po' di lucidità e poi davanti alla porta ci vuole anche quel pizzico di cattiveria per fare gol. Un po' di scopo, un po' di scopo, un po' di scopo, un po' di scopo. Un po' di scopo, un po' di scopo, un po' di scopo, un po' di scopo. Quindi non c'è niente da inventare, c'è da raccogliare le forze, soprattutto c'è giocare questa partita delicata, che ci aprirebbe qualcosa di importante per il futuro. Non c'è cosa di far sorpresa uno ad altro in questa partita. A fine campionato le sorpreze è difficile fare sorpreze. È importante giocare senza paura e con la convinzione di poter fare risultato. A fine campionato è molto difficile da si insegnare, ma è importante in questo caso da si insegnare un po' di scopo e con la convinzione di poter fare risultato. Non stiamo parlando di paura, lei vede la paura dei vostri giocatori in alcune delle partite? No, paura no, ma certe volte magari è sufficiente, non è la giusta cattiveria per portare un po' di scopo, perché anche la partita di coppa ha detto che magari con un pizzico di cattiveria in più avremo portato a quale risultato. Io non sono abituato a ragionare con i sei. Io quando una cosa succede ne parlo, finché non succede non se ne può parlare. Io non sono sveglato a parlare con i sei, quando qualcosa non è successo io non ho parlato, quando si è successo si ho parlato.